5.000 tonnellate di pneumatici da 8 anni abbandonati a cielo aperto. E' partita il 23 maggio la bonifica di un'area privata situata a Gianturco, dove ad oggi risulta accatastato l'equivalente di mezzo milione di pneumatici fuori uso, che saranno rimossi nel giro di due mesi dal consorzio Ecopneus. L'intervento di sequestro è stato operato nel 2012 dalla Polizia Municipale e dal Reparto di Tutele Ambientale. Oggi a conclusione dell'iter sia giudiziario che amministrativo si sono avviate le procedure per rimuovere tutti i copertoni stoccati in questo sito. La stima è di circa 5.000 tonnellate, ma i valori si presumono superiori e sarà il dato finale a darcene un conto. Il piano di bonifica è frutto della cooperazione fra il Comune di Napoli, la Procura di Napoli, il Comitato per la Prevenzione dei Roghi in Campania e il Ministero dell'Ambiente. I pneumatici sono pericolosissimi perché hanno due caratteristiche, quelle di sfrigionare un elevato livello di diossina e anche quello di bruciare molto lentamente. Spesso continuano a bruciare nel tempo, tanto che non è possibile spegnerli, è possibile soltanto coprirli con terra. Basta che ogni cittadino acquisti e cambi i pneumatici facendolo non a nero, ma facendolo pagando i pneumatici e ricevendo lo scontrino fiscale o la fattura. Nel momento in cui riceve lo scontrino fiscale e la fattura ha la certezza di pagare anche le spese per il recupero di questi pneumatici in maniera virtuosa dal punto di vista ambientale, che questi pneumatici non finiranno sulle strade abbandonati o comunque anche date alle fiamme, ma che questi pneumatici entreranno nel ciclo di recupero che fa sì che diventino campi di calcio o attrezzature sportive o arredi urbani o ancora polverino per asfaltare le strade. Il materiale rimosso sarà sottoposto a trattamento per essere poi riciclato nelle infrastrutture, nell'edilizia, in attrezzature sportive e in diversi altri modi. Grazie a tutti.